Subito al lavoro per rinnovare la forza attrattiva della nostra meravigliosa regione, la regione Puglia, che riparte con nuovi modelli di turismo esperienziale, con la sicurezza legata a questa pandemia, soprattutto con una costante di sostenibilità ambientale che i nostri paesaggi e il nostro territorio ci offre. Sono onoratissimo della delega ricevuta e di affrontare questa sfida unica e nuova per me, ma soprattutto sono grato al Presidente Emiliano di entrare nell'esecutivo di governo regionale, di poter dare il mio contributo in continuità con l'ottimo lavoro svolto da Massimo Brahi che mi ha preceduto. Il turismo in Puglia rappresenta un settore nevralgico centrale, rappresenta un pezzo di economia e di vita sociale sempre più importante e nei prossimi giorni lavoreremo a partire dall'ascolto, dalla condivisione con gli operatori di settore, affinché le politiche strategiche messe in piedi in questi anni possano essere aggiornate e rafforzate anche dalle esperienze che abbiamo vissuto durante questi mesi. Sarà uno sforzo importante che dovrà passare anche attraverso il reperimento, la diffusione delle risorse necessarie, utili al finanziamento della macchina organizzativa, ma anche a dare liquidità a chi in questo settore opera e in questi mesi ha vissuto dei momenti di difficoltà. Ma siamo sicuri che l'attrattività della Puglia possa rappresentare subito un elemento per poter ripartire, per poter agganciare il calo dei contagi e la fine della pandemia con una stagione turistica alle porte che si preannuncia interessante almeno al pari degli scorsi anni. Sarà importante essere presenti sul territorio anche grazie al lavoro preziosissimo di agenzie importanti come Puglia Promozione, con la quale non ci stancheremo di essere al fianco degli operatori, dei sindaci, degli operatori di Infopoint, per fare in modo che la nostra regione continui a essere davvero la regione più bella del mondo.